Salve a tutti, io sono Stix, io sono Nart, insieme siamo con i Granpezzi di Tubo. Oggi torniamo con Half-Life. Sì, 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 sono carico a bestia, adesso vedi dovevi dire Half-Life per illuminarmi. Oggi abbiamo però... Ma è vero, io stavo già partendo in quarta ma non abbiamo spiegato. Ti abbiamo dimenticato la cosa più importante di oggi. Sì, sì, è proprio l'evento che cambierà il corso degli eventi nel mondo di eventi con un evento super speciale. È un evento da seguire. Da oggi. E si spera per i prossimi video? Per la prossima serie di eventi. Basta, però. Andremo per voi. È un'emozione di hanno proprio, ti senti... E lo blocca. Il fucking riguadrino! Riquadrino time. Basta. No, questo è Flashdance Moment. Allora. Sì. Come... Mi chiamassi che dovevi fare dei piccolissimi salti proprio. Farmi i gesti sulla catena di montaggio. Un 360. Non ce lo toglie nessuno. Sa proprio di industria a questo momento. Vediamo se ce la fai. Dai, dai. C'è la 360. Ma va, che 360. C'è la 360. Vado a sbattere contro le corde. Noi, ormai li hai preso. Non salto neanche più. Dai, quella agilità. Benissimo. Ok. Fucking caricamento. Sento già rumori di scontro. E invece... Ascensore! Rimariamo bloccati qui. Dovremmo aspettare i soccorsi. Dato che non c'è più nessuno... Siamo fottuti. Gimove! E poi questo decide di prendersi una vacanza. Ma dove è andato? Torna giù! Dove sei? Non c'è più. Bene. Uno in meno da salvare. Beh! Ciao amico! E va! Cioè, praticamente... Ho partito con la liana? Un mostro ha tirato giù. Lui ha detto... Cazzo, sto per morire! Si è aggrappato! Esatto! Salvami tu! Anche se sapeva che sarebbe morto. E infatti... Vuole fare la trappola numero due. Ma io so già! E quindi ci andremo a fare un salto. Subito! Dai, andiamo a vedere se c'è qualcuno sopravvissuto. Ma che dici? Mi faccio catturare? Ma direi di no. Vabbè, basta da quello. Flash test moment! Miga, qua l'abbiamo proprio scacciato di brutto. Gordon, se avessi saputo che era lei l'avrei fatto entrare. Gordon! Si stanno dirigendo tutti verso la superficie. Ma penso che siano pazzi a non starsene nascosti. Vabbè? Non arriverà a salvarci. Ci vengono a salvare! Oh, Albert! Non è che ti sei fatto una cannetta di troppo? Sono stato tanto d'impaccio? No? Tu non hai neanche idea! Esaminare uno di quei campioni di sangue al microscopio? Dov'è il campione di sangue? Dov'è il microscopio? Dov'è il fucking laboratorio dove c'è tutto questo? Chi siamo? Wendy? Sono il lupo cattivo! Wendy? Mica sono Peter Pan! Ma dove balla? C'è un pollo che è invasato! Qua c'è un armadio. Adò? BORGOLI ENTIA! BORGOLI ENTIA! Ciao! Guarda che bell'uomo. Beh, non lo so, eh. Ehi, adesso, adesso. Trunc! È potente ora, trunc! Eh. Fai. Il solito ozo, i bar... Devastazione di ambienti. Don't try this, Tom! Bene! Ciao! Che cazzo c'è qua? Amore mio! No, vai là! Vai da lui! Ehi, è ancora vivo! Ciao! Ehi, no! Non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Ciao! Qualcosa è morto laggiù. Beh, dai! Vedi i residui? L'ho appena massacrato! Sì, andiamocene. Eh, no. Facciamo così. Vieni con me, tesoro. Sì, aspetterò qui. No, devi venire con me! Diglielo tu. Se vuoi muovere? Ok, la coprirò. Ah, vedi che se parlo io! Hai sentito un micopri... È proprio un pat... È proprio un patatolo. Scossa. E invece... C'è un interruttore là. Carlo Conti! Scossa! Sì, c'è un interruttore là. Sempre se ci arrivi. Vieni fuori. Essere inutile. Ciao! Essere inutili! Vabbè. Sì, due senza tre. No, ma va. Fini... Manco! Ma... Ma meno tutti! Non mi ha fatto niente. Sì, ma tutto uno. Benissimo. Uno? Vabbè. Ciao! No, mica no, ma non scappiamo perché ci stanno solo sparando contro. In corsa pesante. In corsa pesante. Non lo so, provo a spagarle. Da qua. Dove ti fa un po' il culo. Sì, sì, no. Non ci sta giocando. Ma là c'è un medico, tranquillo. Stai morendo. Ci avevamo l'armatura. Sera, dependo. Ma chi è? Io ho il lieve presentimento, poi dimmi se mi confermi la cosa. Secondo me... Quella cosa spegneva la torretta. Ma... No, eh... Proviamo a rivedere caricando il salvataggio. Ecco. Eccoci qua. Proviamo. Tentativo numero due. Così, no, rato. Così. Ma è nuovo lì. Strano. Numero tre. Ma è andrà a finire. Ma... Ci ha provato a scappare un po' di più stavolta. Eh, ma... Forza, pollo. Tu ce la puoi fare. Ce la puoi fare. E invece... Ha vissuto la sua vita egregiamente. Eh? Corri, Forrest. Corri. Ah! E adesso? Qua... C'è una strategia dietro. Proviamo. C'è uno di meno al mondo. Cosa c'è? Ce n'è uno di meno al mondo. Ne ha uccisi tre. Vabbè. Che cos'è questa puzza? Eh, eccom'è. Colpa mia. Sorry, man. Ok, perché no? Non volevo morire solo, comunque. Beh. Tu lo so che... Non so se dovremo procedere oltre. La situazione non sembra bella. No, vabbè. Ma senti. Potrebbe essere il nostro ultimo giorno di vita. Dai. Un minimo di... Ma... Ma inzuppiamo, non? Savoiardo nel caffè latte, no? Si può fare. Facciamo una colazione alternativa. Ok, difenderò quest'area. Ma no! Andiamocene da questo posto. Sì! Così mi piace il tuo spirito agonistico. E non solo... Vedi, ma cosa... C'avrà... Ma... Allora, io sono qua, eh. Bravo. RIGA! Ehi, no! Muori, tu l'onore. Bastardi! 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 È morto! L'ho ucciso. No! Bene, adesso io posso anche lasciarti... Dai, dai, dai. I controlli, dato che non hai ancora giocato. Sì, sì. Sei pronto? Ciao! Colpo basso! Colpo basso! Colpo basso! Bene, no! Mi riesco a farmi fare... Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! C'è un tergito di polli! Ponghi d'artificio! I-ha! L'ultimo, lo voglio togliere. Stronzi! Toh, toh! No, dove vai? Mi hai perso quasi metà vita... Per due polli. Per due polli. Dai, adesso mi sento carichissimo a bestia, posso fare di tutto, sono convinto. Ok, e invece, con questa scena chiudiamo. Sì, abbiamo registrato troppo. No? Sì? No, io voglio ancora giocare... Non voglio ancora giocare! La prossima volta, ti do anche un lecca-lecca. No, ok! Come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollicino in su. E condividete su Facebook, Twitter e tutto quello che vi pare... E piace! Mamma mia, qua è proprio l'eleganza! Mettete dei commenti! Dannazione! Commenti! Dannazione, eccolo! Maledetti debosciati! Cioè, scrivete dei commenti, che comunque noi ci divertiamo anche! Notte, ragazzi! Notte, notte!